Sindaco, la ripresa dell'anno scolastico non è stata, come gli altri anni, una cosa comune, semplice, visto che l'intera popolazione scolastica è stata dislocata temporaneamente a Corropoli. Sì, è stato un pochino più movimentato, bisogna ammetterlo, però sono veramente, veramente contento di dire che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, anche quelli insperabili, con grande, grande, come posso dire, soddisfazione. Prima di tutto dei genitori, come intuibilmente si può capire, hanno un grande interesse che tutto andasse in un certo tipo di modo. Io sento il bisogno di ringraziare veramente di cuore, da padre e di famiglia, se posso permettermi la retorica, il Sindaco, l'amministrazione di Corropoli, che ha avuto la sensibilità di aiutarci in questo modo, perché evidentemente altrimenti sarebbe stato necessario fare delle operazioni, delle dislocazioni, che sarebbero state molto, molto meno comode, molto meno piacevoli e anche molto più costose per questa amministrazione. Contestualmente stanno per partire i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola di Colonnella, grazie a un maxi finanziamento ottenuto in precedenza, di recente anche affidati i lavori attraverso la gara d'appalto. Vero, sono tre o quattro giorni che si è conclusa la gara d'appalto, che è stata vinta da una società, chiamiamola locale, in un comune vicino a Colonnella e questo ci fa particolarmente piacere, perché è intuibile che questo lascia un po' più di interesse anche da parte della ditta di fare dei lavori sul proprio territorio che siano fatti in un certo tipo di modo. Ultimo, ma non ultimo, abbiamo anche realizzato un discreto sconto sulla cifra da cui partivamo, sapete che si va a sconto evidentemente, e quindi anche questa è una parte che ci tranquillizza perché ci lascia nel cassetto qualche soldino, magari per qualche spesa improvvista o per qualche abbellimento. Sono soddisfatto di questo e lo sono per i nostri ragazzi, per le famiglie e anche per questa comunità. C'è una tempistica entro la quale poi magari tutto il nuovo edificio tornerà a essere fruibile? Sì, noi contiamo un limite massimo di tre anni, ma la speranza è che già alla fine del secondo si possa cominciare a ragionare sul quando, con la D, e sul come. Quindi evidentemente la speranza è di fare molto molto più in fretta, da qui anche la soddisfazione dell'ente locale che è più sensibile a questo tipo di necessità rispetto ad una ritta che arriva da 500 chilometri, che magari ha interessi ancora più grandi, ancora più distanti.